Ci sono alcuni motociclisti che non possono proprio rinunciare all'andare in moto tutto l'anno. C'è però un problema, qui siamo a Modena, siamo davanti allo showroom oram, è quasi dicembre e la temperatura è vicina allo zero e andare in moto col freddo si sa non è proprio il massimo della vita. Come fare? Come vedete io sono vestito perfettamente per andare in moto ma questi capi non sono disegnati per le temperature più rigide. Ma c'è una soluzione, vedete che dal mio abbigliamento sbuca un connettore perché sotto ai capi sto indossando dell'abbigliamento riscaldato di Klan. Qua vediamo il sottogiacca, io sto indossando il sottogiacca, il sottopantalone, le calze riscaldate e vedremo ho anche i guanti. Klan è il leader per quello che riguarda la produzione di abbigliamento riscaldato da moto. Ho chiesto agli amici di Oram di prepararmi una splendida Caffè Racer che sia in linea con l'abbigliamento che sto indossando in modo da potervi fare vedere come funziona. Non hanno trovato la Caffè Racer, mi hanno portato uno splendido scooter SH ma il principio è lo stesso. Infatti il connettore di Klan è possibile installarlo su tutti i motocicli. Occorre semplicemente installare il cavo sulla batteria e dopodiché potrete collegare con un unico filo direttamente il vostro abbigliamento riscaldato dalle calze, i pantaloni, la giacca e i guanti alla moto. Ho dato corrente allo scooter e potete vedere che semplicemente tenendo premuto questo bottone è comparso un led rosso che è la massima potenza su quattro livelli che sono selezionabili e il mio abbigliamento riscaldato completamente si sta già riscaldando. Nel mio abbigliamento mancano ovviamente i guanti, ma Klan ha pensato anche a questo fornendo due modelli, uno con protezioni e uno senza e modelli che sono molto furbi perché dotati di connettore che va collegato direttamente alla connessione che furiesce dalla manica del sottogiacca. Non avrete quindi cavi che scorrono nel corpo ma tutto rimarrà appunto lungo la manica. Stessa cosa per le calze che andranno invece collegate a dei connettori che si trovano nel pantalone, nella gamba del pantalone. Se non volete installare dei connettori sulla moto, quindi non volete collegarvi alla batteria della vostra moto sarà sufficiente acquistare il pacco batterie. Questo è un pacco batterie che è possibile inserire nella tasca della sottogiacca e con questa batteria è possibile riscaldare tutto il vostro abbigliamento. Potete vedere anche in questo caso che ho collegato la batteria e tutto il corpo in questo momento si sta riscaldando. Nel caso non abbiate intenzione di acquistare ad esempio il sottogiacca o il sottopantalone sono state predisposte delle mini batterie che possono essere inserite direttamente nel guanto e nelle calze. Quindi sarà sufficiente attaccare il vostro cavo, vedete il connettore è stato collegato in questo caso in questa posizione ma dovete scegliere quella che è meno in traccia alla vostra guida e successivamente tenendo premuto, come vedete io ho già acceso i miei guanti, accendete tutto il vostro abbigliamento e siete pronti per la vostra prossima avventura in moto. Io adesso prendo la mia splendida Cafferace e le vado a fare un bel giro riscaldato. Mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Oram e mettere mi piace alla pagina Facebook. Appuntamento al prossimo video, sempre con Oram, always riding. Ciao! Ciao!